Buongiorno e ben trovati Grazie al nuovo appuntamento con Mattino 6, la quotidiana rassegna stampa curata dalla redazione giornalistica di TV6. Allora iniziamo subito con i nostri quotidiani regionali e andiamo a vedere le prime pagine. Iniziamo dalle quattro prime pagine delle altrettanto edizioni provinciali del centro. Più furti in casa, come proteggerci? Il titolo di apertura della prima di Pescara. Fiera sulla sicurezza da domani all'Aurum, l'esperto. Ecco i metodi sicuri contro i ladri. Poi troviamo nelle cronache, restando sempre a quelle abruzzesi, tragedia di Rigopiano, l'inchiesta ai difensori degli indagati. La regione centra e poi Pescara in fin di vita dopo la caduta dalla Scala a Montesilvano, 150 firme sulla petizione anti-immigrati. E poi troviamo a centropagina la fotonotizia, Bruzzo, decreto salva impianti, referendum a Giralto, lunga vita alle trivelle. E ancora all'interno, nello spazio dedicato al nazionale, il caso Consip, Renzi al padre, dimmi la verità su Romeo. E poi l'intrigo, segreti ai russi e bufera sul presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Nel taglio basso, la storia, campionato 1972, Silone il pronostico bianconero, la Juve vincerà lo scudetto, la Lazio sarà promossa in Serie A. Andiamo avanti sempre sul quotidiano Il Centro, passiamo adesso a vedere la prima pagina dell'edizione di Chieti Lanciano Vasto. Ateneo, fumata nera per il rettore all'Università d'Annunzio, stupia in testa ma il primo turno si chiude con un nulla di fatto, oggi ci sarà la seconda votazione. Ritroviamo ancora la fotonotizia a centropagina e la tragedia di Rigopiano in primo piano. E ancora invece dalle notizie dalla provincia di Chieti Vasto, il Cotir chiude, i ricercatori salgono sul tetto. E Lanciano, comuni a secco, niente lezioni nelle scuole. Andiamo ancora avanti, adesso ci spostiamo sulla prima di Teramo. Il ruzzo, l'Arta fa allarmismo, caso acqua si riaccende lo scontro tra gli enti, i parlamentari dicono eccessivo vietare l'uso. Andiamo a vedere anche le altre notizie. L'indagine, morti nella bufera, nessuno è colpevole per la morte di tre persone a Poggio Umbricchio. Poi Giulianova crolla un pino paura sul lungomare. Andiamo ancora avanti, sempre sul quotidiano Il Centro. Questa è la prima di L'Aquila, Vizzano Sulmona. Appalti, Capogna, soldi alla Pezzopane. Il PM è violazione della legge sul finanziamento dei partiti. La senatrice risponde, sono in regola. Questo è il titolo di apertura. Ancora L'Aquila, Addio Petracca, medico artista del San Salvatore. Poi a Sulmona, stanati dalla CNA, 60 artigiani abusivi. Adesso cambiamo testata e ci spostiamo sul messaggero. Andiamo a vedere anche la prima pagina dell'inserto Abruzzo. Appalti, la Pezzopane indagata, accusa di finanziamento illecito per la senatrice Aquilana del Partito Democratico in una costola dell'inchiesta marsicana sull'illuminazione pubblica. Lei risponde, non ne so nulla, ho fiducia nei PM. In primo piano anche il project financing dell'ospedale di Chieti. Anche i primari contro l'ospedale. Il project financing bocciato dai medici d'Alfonso in un decalogo elenca i motivi per cui dire sì al progetto dell'ICM. Poi ritroviamo anche l'esposto contro la regione dei legali del comune di Rigopiano. A Rigopiano la tragedia era evitabile. Se la regione Abruzzo avesse dato seguito a quanto stabilito nel marzo del 2014 realizzando la carta di localizzazione dei pericoli da Valanga, gli avvocati hanno detto che non saremmo qui perché non ci sarebbero stati morti. Andiamo ancora avanti. A centropagina invece troviamo il tema dei migranti, la convivenza difficile firme contro l'ipotesi ex artigian luce. Montesilvano presidio antimigranti. Vedete la fotografia. In poche ore i promotori hanno raccolto 200 firme. Dicono non siamo razzisti. Ancora ritroviamo in questo richiamo dalle pagine interne la notizia che riguarda l'Università d'Annunzio. Nuovo rettore, fumata nera, stuppia avanti. Come previsto si torna alle urne oggi per eleggere il nuovo rettore dell'Università d'Annunzio. Ieri nessuno dei sei candidati ha raggiunto il 50% dei voti. La cronaca nel taglio basso, Odissea sulla A24, fiamme sul bus in 50 restano a piedi. Vanno a fuoco le ruote del Pullman Tua sulla tratta Vezzano-L'Aquila e 50 pendolari rimangono a piedi sull'autostrada. È accaduto ieri sulla A24 intorno alle 14 prima di entrare per fortuna in una galleria. I passeggeri hanno sentito un boato provenire dalla parte posteriore del mezzo e subito dopo hanno visto levarsi il fumo. Lo stesso autuista, con l'aiuto di alcuni passeggeri, ha domato le fiamme. Prima che arrivassero i mezzi di soccorso, nessuno è rimasto ferito né intossicato. Andiamo a vedere anche di spalla. Con le poste privatizzate di servizi sicuri per i territori, questo quanto emerso dal congresso della CISL-LP in conclave a Montesilvano, sindacato che ha contestato la linea del Ministero dell'Economia e del Ministro Piercarlo Padoan. Andiamo nel taglio alto. L'attesa del raduno politici e attori a Pescara, la Marcord dei Bersaglieri VIP e poi chiede il sindaco e la vigilessa a nozze a Napoli per di primio. All'Aquila corsi di laurea a numero chiuso, insorge l'UDU, si uccide. Così l'Ateneo all'Associazione degli Universitari dice che queste non sono le politiche giuste per aiutare una città e un territorio già tanto provati dalle tragedie. Ora andiamo a vedere la prima pagina della città, il quotidiano della provincia di Teramo. Nessun colpevole per i morti assiderati. La procura chiede l'archiviazione per la tragedia di Claudio e Mattia Marinelli durante l'emergenza neve. Questo è il titolo con il quale viene aperto il quotidiano La Città. A centropagina l'intervista a Renato Mannheimer che sarà sabato allo Sporting. elettori e consumatori. E poi per quanto riguarda la politica, Brucchi fa il bis con i dissidenti. Dodo intanto si organizza con la sua vecchia lista. Questo per quanto riguarda la crisi al comune di Teramo. Nel taglio alto, Isola del Gran Sasso, asilo nido chiuso per il pericolo amianto. Ancora i fondi del Masterplan, ciclovia sullo Tordino già finanziata. Dal Badriatica avvia i lavori per il nuovo depuratore. Di spalla invece il dossier sulla storia del ruzzo, l'epidemia di tifo che isolò la Val Vibrata. E poi l'osservatorio dice vogliamo essere parte attiva nei controlli sui lavori. Nel taglio basso invece troviamo l'anniversario Gennaro della Monica, il leggegno innovatore e anticonvenzionale. E poi il basket con gli squali che cadono a Bologna. Questo per quanto riguarda le prime pagine dei quotidiani regionali. Adesso, come di consueto, apriamo lo spazio dedicato ai titoli nazionali andando sui principali quotidiani italiani. Partiamo dal Corriere della Sera. Renzi, il caso della telefonata. Ovviamente la vicenda Consip la ritroveremo praticamente su tutti i quotidiani che andremo a vedere di qui in avanti. L'ex premier dice che è stata violata la legge. I 5 Stelle, questi sono una cricca. È stata aperta un'indagine da parte di Orlando e del Ministero della Giustizia. Renzi è stato intercettato in un colloquio telefonico con il padre a cui ha intimato di dire la verità. Tensione tra le procure di Roma e Napoli. Poi, un altro caso eclatante di queste ultime ore, in Russia Gate, negli Stati Uniti, pressioni di Trump sull'FBI. Negli States nuove rivelazioni. Il Presidente e i dati segreti ho il diritto di informare Mosca. Donald Trump è in qualche modo accusato di aver rivelato segreti di intelligence al ministro russo Lavrov. Segreti che Israele aveva così chiesto che non venissero rivelati. c'erano degli infiltrati all'interno dell'organizzazione ISIS, infiltrati che provenivano proprio da Israele e che hanno dato informazioni importanti all'intelligence per combattere il terrorismo. Questo poteva mettere a repentaglio la loro vita, ma il Presidente Trump si difende dicendo di avere tutta la legittimità per rivelare questo tipo di informazioni. Andiamo avanti. La Repubblica a Mosca. Notizie segrete. La rabbia dell'Unione Europea su Trump. Il Presidente ammette, posso farlo. Nuove accuse al New York Times che si è occupato proprio di questa vicenda. e poi ritroviamo il caso Consip. Scontro sulla telefonata tra Renzi e il padre. L'ex Premier dice di la verità. IPM illegale divulgare queste intercettazioni che tra l'altro non hanno rilevanza penale. Nel taglio alto, Niger, task force italiana per fermare la rotta dei disperati. Roma tratta con Parigi e Berlino l'invio di un contingente militare. Serviranno almeno 500 uomini. Cambiamo testata ora sulla stampa. Trump, la battaglia delle spie. Il Presidente tentò di bloccare l'inchiesta sul Russia Gate ma il capo dell'FBI si oppose. Si apre un secondo fronte dopo le polemiche sull'incontro con Lavrov, i democratici, i nastri del colloquio o l'impeachment. Quindi si alza anche la polemica politica negli Stati Uniti. Poi il caso Consip. Polemiche dopo le ultime rivelazioni. La madre fermò Renzi. Basta urlare con papà le telefonate ai tempi dell'inchiesta. Andiamo ancora avanti sul Fatto Quotidiano che poi è stato il giornale che ha rivelato questa telefonata. Renzi mente pure sulla telefonata al babbo, tace su Luca e ci diffama. Così in qualche maniera si difende il Fatto Quotidiano che è stato un po' messo nel mirino in queste ultime ore. L'intercettazione parla tutto il giorno ma glissa sui punti chiave di Consip. Qui vedete alcuni punti che vengono riportati. Non spiega su cosa il papà avrebbe mentito a Luca Lotti e quando si parlarono e a che titolo. Non dice perché credeva al PD Mazzei. Il testo sull'incontro con Romeo negato dal padre tralascia l'impeccata al genitore. Non dire che c'era la mamma. Ma se no i PM sentono anche lei. E dunque continua questa campagna e anche questa battaglia a distanza tra il Fatto e l'ex primo ministro, oggi segretario del Partito Democratico. E poi ritroviamo le notizie invece d'oltreoceano. Trump spiffera i segreti alleati ai russi. Tutto ok, sono il capo. Il presidente rivela a Mosca informazioni top secret sull'Isis. Andiamo sul messaggero ora. Caso Renzi, due procure nel mirino. L'ex premier telefona al padre. A IPM devi dire tutta la verità. Scontro sull'intercettazione. Orlando, ispezioni per la fuga di notizie a Roma e Napoli. Matteo, violazione di legge contro di me. Dunque questo è un po' il riassunto che fa il messaggero. A centropagina nella fotonotizia il presidente degli Stati Uniti ammette le soffiate a Lavrov. Incontro con Erdogan, Trump ho dato informazione ai russi e l'Unione Europea blinda lo scambio di dati. Poi una notizia che riguarda la Corea del Nord o ha ordinato il blitz mondiale degli hacker. Questo per quanto riguarda il virus ormai diventato famoso. Wanna cry. Ancora i migranti, porti chiusi per le navi delle ONG che non collaborano. La Torre, presidente della Commissione Difesa, dice seguano le regole oppure vadano altrove. Nel taglio basso una notizia che riguarda Silvio Perlusconi. Due milioni al mese a Veronica. Si tratta la buonuscita. La Cassazione ha confermato l'assegno per la ormai ex moglie dopo la separazione e dunque ora bisognerà trattare gli altri dettagli di questa separazione milionaria. Andiamo sul quotidiano Il Tempo che invece pone l'attenzione su un tema che riguarda più strettamente la capitale. Il titolo sulla fotonotizia, parafrasa la canzone per volare, famosissima. La Raggi presenta la funivia tra le proteste mentre Roma annega nel degrado. Loro buttano tempo e soldi, così terrore ad alta quota. E poi la fuga di notizie sul caso Consip. Sbatti i Renzi in prima pagina, indagano i PM. Nel taglio alto, a Rieti, quattro nuove inchieste sul terremoto di Amatrice. E ancora Gauci è molto malato, Tulliani a bocca asciutta. Stoppa il processo, si va verso la prescrizione per l'ex presidente del Perugia. Andiamo su Libero, il quotidiano diretto da Vittorio Feltri. Il destino quasi comune di Renzi e Boschi. Maledetti Babbi. Matteo intercettato mentre striglia il papà di la verità ai giudici. L'ex premier si lamenta, mi mettono all'agonia. Ma in realtà ha fatto una bella figura. Ben più spinosa è la vicenda di Maria Elena e famiglia che di questi tempi meno appaiono, meglio stanno. E poi, una pensione 2 al sud è regalata. Il 50% di chi incassa l'assegno non ha pagato i contributi. E questo è il tema che pone Libero. Andiamo sul giornale. Scandalo Consip. Renzi intercettato. Un depistaggio nell'inchiesta farsa. La telefonata col padre finisce sul fatto. Una fuga di notizie che fa tutti contenti. E poi, il piano controlli sui cara, fermato da Alfano. Lo scandalo dei centri profughi in mano alla mafia. Il progetto Mireco per impedire affari sull'accoglienza è pronto dal 2015. Il Viminale lo ha ignorato. E poi vedete la notizia del ricorso respinto da parte di Berlusconi. Veroli Callario per ora si tiene 2 milioni al mese. Ma il divorzio è una partita aperta. Andiamo sulla verità. Restando sempre nel campo dei quotidiani di centrodestra. Il quotidiano diretto da Maurizio Belpietro. Intercettazione distrutta dalla procura. Prova che Babbo Renzi sa molto su Consip. Una frase fa litigare i PM di Roma e Napoli. Parlando con il suo avvocato Luigi Marroni. Il dirigente che lo accuse, il padre dell'ex premier in marzo, lo definiva ricattabile. Per i magistrati partenopei era la dimostrazione che voleva condizionare il testimone, ma i colleghi hanno ordinato la cancellazione. E poi a centropagina la presidente della RAI, Monica Maggioni. Da Mizzolini alla Maggioni, la presidente della RAI sulla graticola per le spese dei suoi viaggi. Il tema dei migranti. Sulla prima pagina della verità. ONG e profughi, il PD in sabbia l'inchiesta. Blanda censura per i tassisti del mare, ma ormai gli italiani sanno che cosa sta succedendo. Andiamo sul manifesto e dunque andiamo a dare uno sguardo anche ai quotidiani di sinistra. Guardie e padri è il titolo che riguarda il caso Consip. Di la verità i PM, la telefonata fra Matteo Renzi e il padre Tiziano, pubblicata dal fatto fa riesplodere il caso Consip. La Procura di Roma indaga per la fuga di notizie. L'ex premier è furioso. Politicamente è un regalo, ma chi ha sbagliato pagherà anche i giornalisti. E dunque questa è l'apertura del manifesto. Andiamo adesso su Avvenire, che pone invece l'attenzione maggiore sui migranti e sulle ONG. assolte le ONG. Conclusa l'indagine parlamentare, nessun rapporto con i trafficanti. Bruxelles minaccia sanzioni ai paesi che non accolgono la Commissione del Senato, mai più coordinamento, cioè scusate, ma più coordinamento, metà dei migranti nel 2017, salvata da navi private. Poi a centropagina, Trump, utile dare segrete ai russi, ma l'Unione Europea insorge, minacciando di bloccare lo scambio di comunicazioni. Ancora il caso Consi, Renzi e il padre intercettati e nuova bufera anche sulla pubblicazione di queste intercettazioni. Lo abbiamo visto in precedenza. Il mattino di Napoli, anche qui l'apertura è dedicata alla telefonata di Renzi al padre, inchiesta sulla fuga di notizie. La Procura di Roma indaga dopo la telefonata fra Matteo e Tiziano pubblicata dal fatto. L'ex premier al genitore, devi dire la verità, ha incontrato Romeo, il ministro Orlando, ora avvia accertamenti. Andiamo ancora avanti sul secolo XIX, andiamo a vedere l'apertura, la spia che venne dagli Stati Uniti, rivelazioni sull'Isis, presidente nella bufera, notizie ricevute da Israele. Trump, ho dato io informazioni ai russi e un mio diritto, l'irritazione degli alleati. E poi, Casa Renzi, le liti svelate, fai stare male il babbo, la madre fermò Matteo che chiedeva risposta al padre, Consip, l'ex premier sulle intercettazioni, è una gogna mediatica. La Gazzetta del Mezzogiorno, il quotidiano pugliese, apre anche 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 gli sulla anche esso, scusate, sul caso Consip, il telefono verità dei Renzi. Il leader PD al padre, devi dire tutto, dimostrata la mia serietà, e Gentiloni archivia la vicenda Boschietruria, lei ha già chiarito. E poi, i trasporti, niente treno diretto fra Bari e Roma. Tren Italia non mantiene la promessa, ma ci saranno collegamenti da Foggia. il caso Ilva, segnalammo i danni dell'Ilva, ma nessuno mai si mosse, Taranto, in corte d'assise, la deposizione dei testimoni d'accusa. Andiamo sul Gazzettino, il quotidiano del Nord-Est, Veneto, Pede Montana, niente aumento dell'Ilpe, filmuto da 300 milioni, sarà spacchettato in due tranci, il PD, l'avevamo proposto noi, l'annuncio di Zaia, trovata la soluzione per evitare l'addizionale e ultimare la superstrada. Caso Consip, politica, Renzi, bufera sulle intercettazioni, due procure nel mirino del governo, Matteo Alpadre, devi dire la verità. Andiamo sul dubbio, l'autogol, il fatto intercetta Renzi e lo scaggiona, Consip, la procura, apre un'inchiesta sulla violazione del segreto istruttorio. Vedete, questa è la lettura del dubbio che in qualche maniera ribalta la situazione a favore del premier Matteo Renzi. E poi, Trump lo spavaldo, segrete ai russi e allora, il presidente rivendica le rivelazioni, l'Unione Europea, fiducia, ha rischio. Adesso andiamo a vedere insieme anche i quotidiani sportivi nazionali. Allora, apriamo innanzitutto la prima della gazzetta dello sport. Juve o Lazio di chi è la Coppa? Missione triplete per i bianconeri, prima tappa all'Olimpico, ore 21, partita in diretta su Rai 1 per quanto riguarda la finale di Coppa Italia che vede appunto opposte Juve e Lazio. Poi, sempre il calcio di Serie A, spese Inter, flop gabigolle, il conto sale a 63 milioni, il futuro del Milan, euro rinforzi per blindare Donnarum, ma il giro numero 100, crono da urlo di Domoulin, ciao Quintana, Nibali riparte, questo per quanto riguarda la tappa del giro d'Italia e invece per gli internazionali di tennis, foro italico in delirio per l'impresa dell'Azzurro, Fognini, magia romana, batte in 2-7, 6-2, 6-4, Murray, il numero 1 al mondo. Siamo sul Corriere dello Sport, Coppa Italia finalissima Juve-Lazio alle 21 di questa sera, Goal Cup, il titolo di apertura del giornale, l'Olimpico esaurito per la sfida tra le squadre che hanno mandato a segno il maggior numero di giocatori, la Juve cerca un altro record, vuole la terza Coppa di fila, Lazio a caccia di una vittoria sui bianconeri che manca dal 2013. Ancora il tecnico bianconero Allegri è ora di vincere qui e poi a Cardiff e mentre il tecnico bianco celeste Inzaghi sì, io ci credo ma serve ovviamente tanta grinta per battere i favoriti bianconeri. Per il Napoli caccia all'esterno svolta Napoli e in pugno il belga Foket poi le mosse nero-azzurre Inter Ausilio vola a Parigi per Krikoviak ancora il Giro d'Italia Crono e Maglia Rosa all'olandese Domulenne un treno Nibali Batte e Quintana e poi per il Golf primo evento verso Roma 2022 Ryder Cup che show nella Valle dei Templi Andiamo adesso su Tutto Sport l'apertura ovviamente dedicata alla finale di Coppa Italia Juve Lazio primo passo verso la storia bianconeri a caccia delle tris poi testa allo scudetto e alla finale di Champions League Allegri con il doppio dubbio Mandzukic di Bala ma entrambi dovrebbero farcela Inzaghi deciderà all'ultimo se rischiare parolo poi di spalla il Toro più soldi per tenere Belotti dopo i sondaggi di Manchester United Milan e Atletico Madrid la società tratta col bomber stipendio migliore patto d'onore per una decisione definitiva entro i primi giorni di luglio poi Milan c'è Badelli dopo Cassi Montella vuole rifare il centrocampo in arrivo il regista croato della Fiorentina il Tottenham blinde il tecnico Pocettino no all'Inter e poi il giro d'Italia con la Crono che ha incoronato Domoulin Nibali in qualche maniera si è ripreso dopo il mini crollo sulla vetta del blockhouse e poi un superfognini batte Murray negli internazionali di tennis battuto 6-2 6-4 in un match interamente dominato dall'italiano al foro italico dunque questo per quanto riguarda anche i quotidiani sportivi adesso noi ci fermiamo per un break pubblicitario ma anche per vedere le previsioni del tempo con Meteo 6 poi torniamo con la seconda parte della nostra trasmissione per approfondire le notizie dalla nostra regione tra poco eccoci di nuovo insieme per la seconda parte di Mattino 6 come detto torniamo alle notizie dalla nostra regione ripartiamo dalle pagine interne dei quotidiani abruzzesi la pagina di primo piano del centro parla delle trivelle caccia all'oro nero lunga vita le trivelle ha girato il referendum la denuncia degli ambientalisti così un decreto ministeriale fa allungare il ciclo produttivo e creare nuovi pozzi in Abruzzo 6 gli impianti offshore interessati e poi d'altra parte smanterlarle costa e tanto il nuovo giro d'affari dai 14 ai 31 milioni di euro per ogni piattaforma e riciclarle è quasi impossibile salve le imposte di Pineto e Vasto sono 10 milioni evitato l'azzeramento dei debiti ICI e IMU delle multinazionali il comune Terramano si accorda con Eni e poi le procedure di impatto ambientale nel Mirino anche la nuova via resuscitano i vecchi progetti il taglio basso e alla fiera oil and gas gli studenti abruzzesi si avvicinano al settore andiamo avanti l'inchiesta di Rigopiano la regione poteva evitare quei morti gli avvocati del sindaco di Farindola dicono individuare chi ha disatteso l'ordine di realizzare la carta del pericolo valanghe andiamo a vedere anche come titola su questo argomento il messaggero ecco perché la regione è colpevole nella pagina di Pescara Rigopiano la carta di pericolo valanghe attesa dal 2014 sposto degli avvocati del sindaco di Farindola Lacchetta la legge 170 ignorata per anni per questo motivo ipotizziamo un disastro doloso quella mappa avrebbe evitato le 29 vittime intanto oggi i parenti delle vittime saranno da Papa a Francesco quattro mesi dopo la tragedia andiamo a vedere insieme il servizio sulla conferenza stampa tenuta ieri dagli avvocati nel servizio realizzato da Paolo Lorenzetti gli avvocati del comune di Farindola quasi quattro mesi dalla tragedia dell'hotel Rigopiano passano al contrattacco con una denuncia presentata presso la procura della Repubblica del Tribunale dell'Aquila per denunciare la regione Abruzzo per si sostiene chiare responsabilità sul disastro del 18 gennaio scorso in relazione al mancato possesso e utilizzo come previsto dalla legge 47 del 1992 della CLPV ovvero della carta di localizzazione probabile delle valanghe che si è adottata avrebbe potuto prevedere sempre secondo i legali del comune farindolese la tragedia che ha causato 29 vittime chiesto dai legali anche il sequestro di tutte le mail presenti sui server della regione Abruzzo sulla questione valanghe Noi abbiamo denunciato alla Procura della Repubblica dell'Aquila la mancata attuazione di una legge regionale specifica che è la legge regionale 47 del 1992 quindi una legge inattuata dal 1992 che prevedeva la realizzazione della CLPV che sarebbe la carta di localizzazione dei pericoli da valanga che avrebbe permesso certamente una volta realizzata quindi realizzata dalla protezione civile regionale approvata dalla giunta e notificata a tutti i comuni interessati la attuazione di strumenti specifici da parte dei comuni per evitare qualsiasi tipo di evento in zone valanghive l'unica carta che è stata realizzata è una carta storica delle valanga che non è una carta precettiva ma è semplicemente una individuazione di tutti gli eventi che si sono verificati negli ultimi 60 anni in Abruzzo e in questa carta non c'è la zona di Rigopiano perché a Rigopiano negli ultimi 60 anni non c'è stata nessuna valanga noi abbiamo avuto sin dall'inizio il mandato da parte del sindaco Lacchetta anche prima che lui venisse indagato formalmente di accertare quali erano effettivamente le cause della valanga cioè accertare la verità perché anche la comunità di Farindola doveva comprendere qual era la verità ecco per questo motivo noi abbiamo fatto sin dall'inizio tutta un'attività tecnica attraverso i nostri consulenti che ha permesso di effettuare tutti questi accertamenti anche con richieste di atti alla regione agli organi competenti regionali la nostra tesi è che se ci fosse stato questo ottimo strumento preventivo la valanga sul Rigopiano non avrebbe fatto vittima questo è un dato certo scientificamente provato e questo che stiamo dimostrando attraverso i nostri tecnici perché come avete visto abbiamo dimostrato i nostri tecnici hanno effettuato una porzione un'ipotesi quindi nostra di carta di localizzazione dei pericoli della valanga e l'avete visto nelle slide che abbiamo proiettato da cui risulta che proprio effettuando questi accertamenti tecnici attraverso l'analisi dell'ortofroto quindi le foto dall'alto eccetera che c'era il pericolo di valanghe a Rigopiano se soltanto fosse stata realizzata la carta che noi abbiamo realizzato i nostri tecnici hanno realizzato in pochi giorni Andiamo avanti con la lettura dei nostri giornali regionali adesso torniamo sul quotidiano Il Messaggero per aprire lo spazio e la pagina dedicata al project financing dell'ospedale di Chieti i tecnici e primari bocciano il nuovo ospedale di Chieti Mauro Febbo e Fabrizio Di Stefano di Forza Italia ecco i pareri e le relazioni trancianti alla base del no al project financing della Maltauro il presidente della vigilanza dice si ponga fine a questa vicenda altrimenti lo chiederemo alla magistratura e fra poco lo ascolteremo nel servizio perché a stretto giro ieri è arrivata anche la replica della regione Abruzzo d'Alfonso ecco il decalogo a favore del sì per l'assessore alla sanità Polucci il comportamento della regione è coerente con quanto scritto 14 mesi fa mentre il presidente della regione in un documento ha esposto le 10 ragioni per dire sì al progetto intanto torniamo alle contestazioni di Forza Italia e dei 5 Stelle e andiamo a vedere tutto nel servizio da parte delle opposizioni quella contro il project financing per il nuovo ospedale di Chieti sta assumendo i contorni di una crociata sia il Movimento 5 Stelle che Forza Italia infatti insistono sulla inefficacia e sugli errori contenuti nelle carte della Maltauro che ha presentato alla regione il progetto di finanza i grillini con Sara Marcozzi sottolineano come il Rupp e l'ANAC abbiano già sollevato dubbi sul progetto bocciature a cui si aggiunge continua il capogruppo dei 5 Stelle quella dell'esperto nominato dalla ASL la professoressa Veronica Vecchi direttore della formazione executive del MISB dell'Università Bocconi di Milano la Marcozzi in una nota sottolinea come siano stati persi tre anni di tempo ponendo l'accento sull'arroganza del governo regionale sordo alle criticità evidenziate Forza Italia comorofebbo attacca invece portando in primo piano il parere negativo al project dei capi dipartimento dell'ospedale clinicizzato di Colle dell'Ara per gli azzurri il nuovo ospedale non tiene conto delle reali esigenze di pazienti ed operatori sanitari ben 12 responsabili walk cioè un'unità complessa quindi capi dipartimento sono intervenuti ridicolizzando il progetto in termini sanitari in termini di costi economici e finanziari in termini di costo servizi in termini proprio di ingegneria sanitaria questo è un progetto che è stato fatto credo forse pensando ad altro non tenendo conto di quelle che sono la reale situazione dell'ospedale di Chieti per esempio sono sbagliati i posti letto anziché 498 ne mettono a conto non tengono conto che ne sono 404 per cui chiedono cifre superiori a quelle che dovrebbero chiedere c'è il servizio di radiologia che oggi costa 2 milioni e 2 loro sparano 7 milioni e 7 quindi insomma ci sono relazioni che veramente gridano vendetta io mi auguro che a questo punto ci si fermi con 3 anni di ritardo e si dica va bene accantoniamo questa sceneggiata andiamo ma ancora avanti e adesso andiamo a vedere l'abbiamo vista poco fa possiamo tornarci la pagina Abruzzo del quotidiano il centro di scariche fuori legge anche l'impianto di pizzoli nella lista nera oggi l'Unione Europea svela l'elenco dei siti italiani da multare in Abruzzo erano 25 ma un rapporto li ha ridotti ad 1 e poi l'Aquila confronto in prefettura i sindacati dei medici di Conoa i super dirigenti delle Asle nel taglio basso per donanza bene dall'UNESCO parte l'iter incontro al ministero per estilare il calendario delle manifestazioni l'Aquila unica candidata in Italia andiamo ancora avanti sempre sulla pagina Abruzzo torniamo alla politica Movimento 5 Stelle una polveriera ai conti della regione lo scontro sul bilancio Pettinari vogliamo le cifre del disavanzo pronti a chiedere lo scioglimento del consiglio regionale Paolucci risponde non sa di cosa sta parlando andiamo sempre avanti sul quotidiano il centro e adesso andremo a vedere l'apertura della pagina di Pescara rilancio della Tiburtina uffici capannoni e garage all'asta per 3 milioni di euro sono 145 le unità immobiliari in vendita il 6 giugno c'è già una offerta per entrare nei capannoni cecchi sfide il filo spinato l'altra faccia del Piper da anni oggetto di incursioni all'asta tra pochi giorni i tossicodipendenti buttano giù le transegne e scavano sotto la recinzione proseguiamo sul quotidiano il centro la fiera sulla sicurezza sempre più furti in casa ecco come proteggerci all'aurum le ultime novità tecnologiche per difendersi dai ladri torniamo invece adesso sul messaggero per una notizia di cronaca che arriva sempre dall'area metropolitana picchia e rapina ragazzini sulla riviera minorenne arrestato un 17enne straniero accusato di un'aggressione avvenuta il 17 di aprile due anni fa coinvolto in fatti analoghi indagine lampo dei carabinieri una lunga catena di precedenti diventa un caso la violenza minorile nel taglio basso firme e barricate contro i rifugiati la bomba etnica presidio del gruppo hashtag Montesilvano 2019 davanti all'immobile destinato ad ospitare 60 stranieri la replica di Maragno andiamo a vedere questa notizia anche sul quotidiano il centro allora andiamo ad aprire il centro e passiamo alla pagina di Montesilvano progetto accoglienza mobilitazione a Santa Filomena raccolte 150 firme contro gli immigrati in meno di un'ora petizione promossa da un comitato civico delle quartiere vogliamo dire no all'occupazione dell'edificio ex artigian luce dunque queste le polemiche che proseguono a Montesilvano da mesi c'è in atto una battaglia proprio sulla accoglienza ai migranti sul progetto SPRAR e sui luoghi da destinare appunto all'accoglienza torniamo adesso alle cronache di Pescara precipita dalla scala 53 anni in fin di vita l'incidente in un palazzo del villaggio Alcione l'uomo stava sistemando delle scatole in una botola insieme alla moglie andiamo ancora avanti sempre sul quotidiano il centro proseguiamo nella lettura delle altre pagine dell'area metropolitana risorgerà il campetto sportivo delle elementari spoltore avviati lavori di riqualificazione dell'area esterna della scuola il sindaco di Lorito sarà tutto pronto tra 20 giorni per i giochi della gioventù Alessandrini gita a Barcellona con premio la scuola montesilvanese del preside Bollini conquista il primo posto al nono workshop IFS in board nel taglio basso coltiviamo si comincia con l'ABC domani si entra nel vivo delle elezioni organizzate con la col diretti andiamo nella pagina di Francaville dell'area metropolitana il TAR ordina di eliminare gli scogli abusivi in mare il provvedimento sul ricorso dei bagnatori della zona di Pretaro entro venerdì 26 maggio bisognerà completare l'intervento nel taglio basso agrario venerdì protestano prof e studenti ce pagati servono 100.000 euro per ristrutturare l'istituto di Villareia ma la provincia non ha i fondi necessari adesso andiamo a vedere anche la pagina di penne popoli dell'alta valpescara l'ospedale non può funzionare senza i servizi essenziali sindacati e rsu della cgl criticano l'atto aziendale dell'asl non sono state rispettate tutte le richieste del comitato che insomma si muove per gli interessi dell'ospedale di popoli a torre dei passeri il comune cerca sponsor per allestire un cartellone estivo e poi restituire Mascafo un'identità all'imprenditore del PD Gianni Chiacchia vuole riconquistare lo scranno da sindaco si vota anche nel comune pescarese andiamo alle altre notizie dalle altre province riapriamo il quotidiano il messaggero andiamo all'Aquila finanziamento illecito al partito la pezzopane dice non centro nulla la senatrice del PD tirata in ballo dalle accuse dell'imprenditore Capogna la replica non l'ho mai conosciuto sono pronta a denunciarlo per calugna l'uomo avrebbe descritto ai PM Avezzanesi e alla mobile Aquilana un sistema articolato di favori e d'azioni in cambio di appalti verso le elezioni sotto servizi fondi e ricostruzione dibattito al veleno e poi 5 stelle i pentastellati cameriere per un giorno blundo a Bazzano qui persino uno stalker nel taglio basso l'amico morì sul Gran Sasso impugnata all'assoluzione all'attacco illegale di Massimiliano Giusti morto in quota il 25 gennaio del 2012 le motivazioni della sentenza le troverete nell'articolo proseguiamo con la pagina Aquilana ancora corsi di lauree a numero chiuso così si uccide l'Ateneo insorgono gli universitari dell'Udo queste non sono le politiche giuste per aiutare una città già tanto provata abbiamo vissuto una vera e propria fuga di studenti perdendo in meno di due anni 6.000 iscritti andiamo sulla pagina di Avezzano sul Mona bus a fuoco in 50 piedi sulla 24 i passeggeri hanno sentito un boato provenire dalle ruote prima di entrare in galleria l'autista ha spento le fiamme il racconto dei pendolari il fumo ha invaso l'intero mezzo siamo rimasti a lungo sulla corsia d'emergenza dell'autostrada il pullman della tua diretto all'Aquila noi abbandonati l'azienda dice veicoli vecchi ma sottoposti a regolare manutenzione proseguiamo con le altre notizie da Chieti questa volta elezioni rettore primo round a stuppia senza la maggioranza oggi la seconda votazione per cercare di raggiungere il 50% più uno dei voti venerdì ci sarà l'eventuale ballottaggio tra i due che hanno ricevuto più preferenze affluenza altissima il direttore del dipartimento di scienze psicologiche ha chiuso a 192 a rosticini con i vermi scatta l'ispezione dei NAS il blitz la nuova scoperta shock uova di mosca sugli spiedini finisce nei guai responsabile del punto vendita controllato dai NAS nel taglio il sindaco di primio si sposa la cerimonia avrà luogo a Napoli ancora l'inchiesta pedofilia audizione protetta per le vittime dell'allenatore in questa inchiesta che riguarda appunto un tema davvero particolare e scottante andiamo sulla pagina di Lanciano Vastortona blackout idrico chiudono le scuole lavori di manutenzione niente acqua per un giorno in 22 comuni gli studenti a casa in alcuni istituti di Lanciano in tutta Ortona problemi legati all'acquedotto colabrodo del comprensorio Frentano lungo stop all'erogazione i disagi dall'alba fino alle 8 di domani e poi a Vasto i ricercatori del Cotir tornano ancora sul tetto sono da ieri di nuovo sul tetto e protestano a oltranze i ricercatori del Cotir di Vasto da 28 mesi senza stipendio abbandonati dalla regione Abruzzo andiamo a vedere anche le notizie dal Teramano e allora andiamo ad aprire le pagine interne della città il quotidiano della provincia di Teramo e partiamo dalla inchiesta su quanto avvenuto a Poggiunbricchio questo inverno nessun responsabile per i morti assiderati la procura chiede l'archiviazione per la tragedia di Claudio e Mattia Marinelli durante l'emergenza neve padre e figlio sono rimasti bloccati nell'auto durante la bufera il 18 gennaio i corpi sono stati trovati due giorni dopo tragica fatalità per la procura la morte dei due durante la tormenta di neve è stata appunto una tragica fatalità e poi osservatorio delle acque vogliamo essere parte attiva nei controlli dei lavori sotto il Gran Sasso nei pressi dei laboratori nel taglio basso ucciso da un infarto a 19 anni e chiesta l'archiviazione la procura aveva aperto un'inchiesta sulle decesso improvviso di Riccardo Tommarelli andiamo ancora avanti passiamo a quest'altra notizia che riguarda la ciclovia Tordini ha già fidanziata nel masterplan Renzo Di Sabatino risponde a Brucchia la provincia il soggetto attuatore per le piste ciclabili la lezione il masterplan ha le sue regole la sua suddivisione per assi di intervento e appunto è una di queste quella della ciclovia continuiamo con la lettura del quotidiano la città Brucchi pronto all'incontro bis con i dissidenti intanto Dodo Di Sabatino chiama a raccolta la sua vecchia lista per organizzarsi in vista delle prossime elezioni la sfiducia intanto le minoranze provano a mettere insieme 13 firme per chiedere la sfiducia del primo cittadino dunque crisi al comune di Teramo tutt'altro che risolta almeno secondo la città andiamo ancora avanti in provincia isola asilo chiuso per il pericolo amianto lastre di eternit staccate da una struttura vicina e trovate di fronte all'ingresso forse un gesto volontario la bonifica l'amministrazione comunale ha già avviato l'iter per procedere alla bonifica della zona con i lavori che dovrebbero partire entro la giornata di domani e concludersi in settimana continuiamo con la lettura delle notizie dalla provincia di Teramo dalla Val Vibrata via i lavori anche al depuratore di Alba entro giugno il ruzzo affiderà i lavori al consorzio vincitore dell'appalto l'opera da 10 milioni di euro prevede anche l'adeguamento della rete fognaria ancora sulla città andiamo sulla pagina di Roseto Pineto a Tresilvi sicurezza nuove misure contro l'ondata di furti a Roseto dopo il colpo al salone Matisse torna alla ribalta il problema delle telecamere e della videosorveglianza di Sabatino punta ad intercettare fondi per la videosorveglianza dal decreto sicurezza intanto entrano in servizio altri 4 vigili per affrontare la stagione estiva ora apremo lo spazio dedicato allo sport e dunque ritorniamo sul quotidiano il centro per andare a vedere l'Abruzzo sport e in particolare le notizie che riguardano il Pescara notizie che a questo punto riguardano soprattutto il mercato il futuro del Delfino in quanto il campionato è ormai praticamente finito e già da qualche giornata per il Pescara matematicamente retrocesso il futuro del Pescara allora sul quotidiano il centro Campagnaro in ballo c'è un contratto a gettone al difensore argentino verrà proposto un accordo legato alle presenze l'ex Inter compirà 37 anni il 27 giugno ma non vuole ritirarsi dopo una retrocessione i guai fisici lo rendono disponibile solo part time e la sua presenza in rosa potrebbe aiutare i giovani la retroguardia subirà un profondo restyling rientrerà Pigliacelli in uscita Coda e Stendardo in caso di offerte partiranno anche Zampano e Biraghi questo per quanto riguarda il Pescara sul quotidiano il centro andiamo a vedere anche l'Abruzzo Sport del messaggero io la Spal e i 70 anni di Zeman Arturo Bertuccioli da 40 anni in Abruzzo segnò l'ultimo gol degli estensi nella massima serie nel 1968 Pescara non all'altezza della categoria è mancato la padula il boemo in panchina è un mio cotaneo ma può ancora insegnare tanto l'ex tecnico di Chieti e Francavilla protagonista con Rei e Capello negli anni 60 e per quanto riguarda il notiziario Biancazzurro domani amichevole a Pescina alle 15 allo stadio Barbati i biancazzurri affronteranno in amichevole l'unico usano fondi formazione di Lega Pro in cui milita un ex il 34 anni difensore Tiziano Mucciante pescarese doc e cresciuto nel settore giovanile del Delfino e biglietti in vendita al costo di 5 euro l'incasso sarà devoluto in beneficenza intanto ieri ripresa degli allenamenti al poggio dell'Ulivo e degli Olivi in vista dell'ultima gara casalinga della stagione contro il Palermo lunedì prossimo alle 20 e 45 andiamo andiamo ancora avanti con il calcio ma adesso ci occupiamo di Lega Pro e allora restando sempre all'Abruzzo Sport del messaggero Barbuti Teramo e la gara da vita o morte l'attaccante ex Lumezzane se dovessi segnare per me sarebbe una gioia immensa siamo carichi per il play out andiamo a vedere anche il titolo del centro sul play out del Teramo Barbuti pregusta i gol dell'ex se segno esulto l'attaccante del Teramo devo farmi perdonare la rete della prima giornata quando ero a Lumezzane ancora sul Teramo vediamo anche il titolo della città che apre ovviamente la sua pagina sportiva parlando appunto del Teramo Barbuti un play out da ex gara Davito morte l'attaccante modenese ha iniziato la stagione a Lumezzane se dovessi segnare sarebbe una gioia incontenibile la posta in palio è altissima nessuno di noi può permettersi di rimanere senza contratto il prossimo anno il Lumezzane a gennaio si è indebolito spero di giocare titolare perché queste partite mi piacciono davvero allora andiamo ad ascoltarlo Barbuti o Forlì o Lumezzane il Fano là secondo me campo piccolo abbiamo avuto difficoltà anche nella partita di ritorno contro di loro perché sia un campo piccolo loro sono fisici quindi secondo me ci è capitata la squadra giusta ad affrontare quindi andiamo là facendo la partita consapevoli che se vinciamo la prima poi abbiamo molte più possibilità di salvarci a Lumezzane a parte che a gennaio secondo me si è indebolito tanto però comunque secondo me resta una squadra tosta che corre molto e che fa dell'aggressività dell'intensità la sua arma migliore difficoltà ne hanno avute perché si sono lì ne hanno avute e noi cerchiamo di lavorare soprattutto sulle loro difficoltà e niente questa partita secondo me è una partita un po' a parte nel senso che ci si gioca tutto è una partita dove ci si gioca il contratto dell'anno prossimo e quindi è una partita vita o morte secondo me se dovessi segnare secondo me infatti per Scaramanzieme è che non dico niente però secondo me la gioia è incontenibile proseguiamo con il calcio scendiamo in Serie D dal messaggero L'Aquila Rieti senza Peluso e Ranelli ufficiale la finale playoff del girone G di Serie D tra il Rieti e l'Aquila si disputerà domenica alle 16 allo stadio Centro d'Italia Maglio Scopigno in terra laziale l'allenatore Rossobludo va a fare a meno degli squalificati il centrocampista Lorenzo Ranelli e l'attaccante Maurizio Peluso questo per quanto riguarda il playoff dell'Aquila adesso invece torniamo sul quotidiano Mil Centro e andiamo a vedere insieme le altre notizie che riguardano il basket gli spareggi delle abruzzesi vendetta della Virtus Rosetto Sinchina e ora pensa a venerdì la serie dei quarti playoff 1 a 1 si sposta al Palamaggetti a Bologna monologo dei Felsini sempre in vantaggio partita senza storie anche dal punteggio finita 93 a 66 e poi la Proger ribalta Forlì e adesso spera nella salvezza Mortellaro e Davis trascinano i teatini alla riscossa tensione sugli spalti alla fine di Cosmo ringrazia i tifosi Proger Forlì è finita 82 a 77 andiamo a vedere anche le dichiarazioni dei tecnici nel taglio basso di Paolo Antonio adesso rialziamoci per quanto riguarda il Rosetto bravi loro è accaduto l'esatto contrario di domenica il tecnico delle furie invece la vittoria è merito del gruppo che cuore ai miei ragazzi hanno dato veramente tutto andiamo ancora avanti sempre parlando di basket ma questa volta di Serie B playoff del girone di Amatori Beffata Campli Superlativa i pescaresi cedono di un soffio a Montegranaro 46 a 44 i farnesi espugnano il parquet di Barcellona Pozzo di Gotto venerdì gara 3 partita finita 56 a 63 per i Terramani continuiamo sul quotidiano il centro adesso il rugby domenica la finale playoff Rotiglio Carica l'Aquila prendiamoci l'eccellenza il tecnico diserterà la gara con la nazionale a 13 per essere in panchina a Parma il presidente dei Medici Lucibello grande rispetto per il Nero Verdi ma ovviamente le partite sono sempre da giocare andiamo a vedere anche le altre notizie l'Atletica assoluti per Società a San Benedetto seconda prova con 5 squadre abruzzese e nastri di partenza per l'automobilismo Caldarelli regale il BIS a Silverstone un'altra vittoria per il Pilosa pescarese della Lamborghini e poi la ginnastica con piogge di medaglie ad Orvieto per Albena Academy e la palla a mano la nazionale a Chieti ci sarà la prossima settimana noi ci fermiamo per quanto riguarda la nostra rassegna stampa il tempo a nostra disposizione è terminato mattino 6 torna domani alle ore 7 mentre la nostra informazione oggi alle 14 alle 19 e alle 23 con il TG6 grazie per essere stati con noi anche questa mattina vi auguro ovviamente una buona giornata grazie per la visione Grazie a tutti.